Steam entra nel mercato console. La notizia pare ormai confermata. Steam Pulse sarà la risposta di Valve a Switch e potrebbe arrivare già entro la fine del 2021. Ecco tutti i dettagli. La vociferata console portatile basata su Steam in stile Nintendo Switch di Valve sembra confermata. Ars Technica ha citato molteplici fonti vicine al progetto, che parlano di uno sviluppo ormai in dirittura d'arrivo. Il nome Steam Pal, con cui è stata chiamata fino ad oggi però, sarebbe provvisorio. Quello ufficiale ancora non si conosce, ma le prerogative sono chiare. Creare un sistema Only One portatile basato su Steam, lo stesso di cui parlava Gabby Newell alcune settimane fa durante un panel in Nuova Zelanda. Si tratterebbe insomma di una sorta di mini PC portatile, dotato sia di controlli fisici sia di controlli tattili. Equipaggiata con un chipset prodotto da Intel o AMD, non è chiaro se Steam Pal verrà proposta in differenti configurazioni o se in un'unica versione. Il prototipo pare avere comunque dimensioni maggiori rispetto a Nintendo Switch. Questo fattore di forma dovrebbe consentire al sistema di integrare non solo i controlli fisici, a cui abbiamo già accennato, ma anche un touchpad, a quanto pare più piccolo rispetto a quelli presenti nello Steam Controller. Steam Pal sarebbe ancora nella fase di prototipo, con caratteristiche variabili, come già accaduto in precedenza per l'hardware targato Valve. Mancano dunque le specifiche tecniche precise, ma si parla di un'uscita video via USB-C, per il collegamento a monitor più grandi, magari addirittura tramite un dock. Il sistema operativo dovrebbe essere una qualche distribuzione di Linux. Del prezzo, invece, non si sa ancora nulla, ma è improbabile che il dispositivo possa essere prodotto a una cifra simile a quella di Nintendo Switch. Se la crisi dei semiconduttori lo permetterà, l'uscita è prevista entro la fine del 2021. L'idea non è certo nuova, visto che diverse case hanno già prodotto mini-PC simili a Switch. Una super console ibrida prodotta da Valve, però, avrebbe certamente il suo fascino. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe una console in stile Nintendo Switch capace di riprodurre tutto il vostro catalogo Steam? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante, lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su Multiplayer.it.